Claudio, ti vuoi girare un secondo? Claudio, ti vuoi girare un secondo? Dai, anche a noi, Claudio. E anche a noi? A me e mia figlia, ti prego, dai. Volete morto? Dai. Eccola. Grazie. Grazie. Se riuscite a farne qualcuno altro. Sto perdonino. Tranquillo. Sto perdonino. Ragazzi, non possiamo fare questo. Dai, più un altro. Non lo possiamo. Grazie. Grazie. Sono venute, Mos. A te è venuta? Guarda la... No. No, si è venuta, perché la mia è venuta. Prendi il bandone, una mano. Prendi il bandone, una mano. Prendi il bandone. Prendi il bandone... Guarda. Guarda.